un piatto poche cose tu non sai che cos'è che sarà a ogni portata farò vedere a tutti noi che cosa ci mangiamo oggi del led per il led per il pò una portata prima portata e una bella birra asciai questo è niente a te buri a me 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 ma che cosa è questo? non so ma Wow. Buon appetito! Aspetta, che devo mettere a fuoco. Sì, ma dovete esagerare. Volevo. Quello è bollente. Ma che cosa sei? Oh, ravioli. Buon appetito. Buon appetito. E per finire, la tempura. Tutto secco. È seccia. Buon appetito. Buon appetito. Cilindro Questo è il dolcetto finale Dolcetto finale, salsa todiaci, sannolato, tagliarola As a devil for a sack for me, for me, for me